Ciao! Benvenute e benvenuti in questo video tutorial in cui imparerete facilmente le regole di Borgo Parmigiano, in cui dovrete correre da un tetto all'altro in cerca di gustosi formaggi, cercando di evitare pericolosi trabocchetti. Impareremo le regole per partite da 2 a 4 giocatori, ma adesso scopriamo come funziona. E come ogni gioco della Red Glove si riassume in tre semplici passaggi. Scopri i tetti, muovi i tuoi topolini, attento alle trappole. Prima di iniziare, se questa è la prima volta che giochi a Borgo Parmigiano, fai molta attenzione ai suoi componenti. Da qui puoi togliere tutte le tessere e poi eliminare queste fustelle. Questa qui invece, una volta che avrai tolto tutte le tessere, dovrai conservarla perché fa parte del tabellone di gioco. Queste tessere qui invece possono essere buttate. Vediamo la preparazione. La scatola e questo inserto in plastica rappresentano la base dove andrai a costruire il tabellone di gioco. Per prima cosa piega i merli delle torri in questo modo e inseriscili negli appositi spazi in questi quattro angoli. Queste sono alcune delle tessere Borgo e sono di tre tipi. Quelle dove trovi i formaggi, quelle senza il formaggio e queste che sono delle trappole. Distribuiscile come vuoi in questi spazi con i buchi. Una avanzerà e puoi tenerla vicino il tabellone di gioco. Ora puoi mettere questa enorme tessera che è il tabellone di gioco sopra tutte queste tessere facendo attenzione a non muoverle. Puoi orientarla come preferisci e utilizzare uno dei due lati. Questo cambierà lo schema dei tetti. Ora prendi i tetti che sono di tre tipi, quelli di paglia, quelli di rame e quelli di tegole. Posizionali nei relativi spazi sul tabellone che puoi identificare dalla loro grandezza o dal colore. Tieni da parte in una riserva le 28 tessere formaggio più piccole e per comodità puoi dividerle per tipo. E infine ogni giocatore prende quattro topi nel colore scelto. Per finire ogni giocatore mette un topo in una torre non occupata e il giocatore che avrà visitato per ultimo un borgo medievale sarà il primo giocatore. Oppure puoi deciderlo casualmente. Il gioco si svolge in round e in ordine di turno partendo dal primo giocatore. La partita termina quando un giocatore ha raccolto quattro formaggi diversi e per ottenerne uno devi riuscire a posizionare i tuoi topini su due formaggi uguali. Il gioco può finire anche se il terzo topo di un giocatore cade in una trappola, ovvero se lui rimane con un topo solo. Nel tuo turno puoi fare fino a quattro azioni a scelta tra le seguenti. Scoprire, correre e spingere. Le azioni correre e scoprire puoi farle quante volte vuoi nel limite delle tue quattro azioni. L'azione spingere puoi farla solo una volta per turno. Puoi anche decidere di fare meno di quattro azioni. Ora vediamole in dettaglio. L'azione scoprire ti permette di rimuovere i tetti e rivelare le stanze che sono nascoste sotto di loro. Scegli uno dei tuoi topi in gioco sul tabellone e decidi quale delle tessere tetto che sono a lui vicine vuoi rimuovere. Puoi rimuovere una qualsiasi tessera vicina a uno dei tuoi topi, anche diagonalmente. Un'azione ti permette di rimuovere un tetto. Come puoi vedere, al di sotto puoi trovarci gustosi formaggi, delle trappole o magari nulla. L'azione correre ti permette di muoverti sul tabellone, ma non puoi muoverti sui tetti o sulle trappole. Puoi muoverti solo in queste direzioni, ma non in direzione diagonale. Ogni passo che fai è considerato un'azione. Puoi passare dove ci sono altri topolini, ma non puoi terminare lì il tuo movimento. In questo esempio, con due movimenti e quindi due azioni, puoi passare dove c'è questo topolino e fermarti dove c'è il formaggio. I topolini, per entrare in gioco, lo fanno attraverso le torri. Entrare in una torre è un movimento e quindi un'azione. Spostarsi da una torre in una casella vicina è un'azione. Entrare, ad esempio, da questa torre dove c'è un altro topolino ti costa due azioni. L'azione spingere ti permette di prendere la tessera vicino al tabellone e inserirla dove vedi questi standardi attorno al tabellone, spingendo di conseguenza le altre tessere. Infatti, una di queste uscirà dal lato opposto. Può capitare che spingendo queste tessere un topolino cada in una trappola. Purtroppo rimarrà lì bloccato fino alla fine della partita. Per ottenere i formaggi, devi fare in modo che due dei tuoi topolini si trovino su due tessere che mostrano lo stesso formaggio. A quel punto, prendi la relativa tessera dalla riserva e mettila nella tua area di gioco. Questo potrebbe anche succedere se non è il tuo turno. Ricorda che puoi ottenere ogni tipo di formaggio una sola volta. Alla fine del tuo turno, dopo aver effettuato quattro azioni, o meno se preferisci, devi ricoprire tutte le stanze vuote, ovvero che non contengono dei topi con il loro relativo tetto. Ricorda che le stanze con un topo caduto in trappola vengono considerate vuote. Questa ovviamente non conta come azione. Vediamo un esempio. È il turno del giocatore verde che decide con un'azione di spostare il suo topolino in questa casella. Con la seconda azione decide di far entrare questo topolino in questa torre e con le rimanenti due azioni fa questi due spostamenti, di fatto terminando il movimento su due formaggi uguali, quindi può ottenere la relativa tessera formaggio. In questo esempio il giocatore blu, con un'azione, decide di spostarsi su questa casella. Con un'altra azione decide di inserire questa tessera qui, facendo scorrere le altre. In questo modo ha fatto cadere il giocatore verde in una trappola e i suoi due topolini si trovano sullo stesso tipo di formaggio, può quindi ottenere la tessera relativa. Con un'altra azione decide di scoprire questo tetto e con la sua ultima azione decide di spostare qui il suo topolino. Terminato il suo turno, deve ricoprire quelle porzioni di tabellone dove non ci sono topolini, compreso questa anche se c'è il topolino nella trappola. La partita termina non appena un giocatore ha raccolto quattro tipi differenti di formaggio e lui sarà il vincitore. Il gioco può finire anche se il terzo topo di un giocatore cade in una trappola, ovvero se lui rimane con un topo solo. In questo caso il vincitore è il giocatore che ha più pezzi di formaggio tra i giocatori rimanenti. Se più giocatori hanno lo stesso numero di pezzi di formaggio, il giocatore vincitore è colui che ha giocato per primo il suo ultimo turno, ovviamente tra quei giocatori che sono in pareggio, ed è escluso il giocatore con un solo topo rimanente. In questo esempio è il turno del secondo giocatore in ordine di turno e il suo terzo topo è caduto in trappola. Il gioco quindi termina. Il primo e il quarto giocatore hanno tre formaggi, quindi sono in parità. Il giocatore che ha giocato per primo il suo ultimo turno sarebbe il terzo giocatore, ma non è uno di quelli in parità. Quindi tra il primo e il quarto giocatore chi vince è il quarto. Se preferisci delle partite più lunghe potete scegliere di far finire la partita a 5 o 6 pezzi di formaggio differenti. Questo è particolarmente raccomandato in partite da due o tre giocatori. Ora sei pronto per giocare a Borgo Parmigiano.